Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. Oggi pomeriggio a partire dalle 18 in piazzale del Verano, in programma una manifestazione promossa dal Movimento Studenti Palestinesi in Italia, prevista la partecipazione di circa 500 persone fino alle 20 possibili deviazioni o limitazioni per 9 linee di bus. Studenti in piazza anche domani pomeriggio alle 15.30 in agenda una manifestazione con corteo da piazza dell'Esquilino a Largo Corrado Ricci. Circa 800 persone in questo caso sfileranno lungo via Cavour con possibili chiusure a traffico e deviazioni per 14 linee di bus.